E una cosa vi chiedo però, tramite De Angelis che ha segnalazioni sul computer continue, da questo momento in poi mettetevi in contatto con internet, fatemi sapere se vi è piaciuta la trasmissione di questa sera, completamente diversa dalle altre, se ho trovato la strada giusta, capito? Ho trovato la strada giusta? Siete contenti? Volete telefonate? Non le volete? Fatemelo sapere, perché per me è la strada giusta, ma ho bisogno del vostro consiglio, come vedete chiedo aiuto ai miei fans, al mio pubblico. Grazie.